Hai giocato una partita molto completa in tutte le aree del campo, sia in difesa che in attacco, prendendo più di 11 rimbalzi e chiudendo la partita con 26 punti. Complimenti intanto perché sei l'NVP della partita. Com'è andata la settimana? Cosa ne pensi della partita e delle prossime partite che giocherai? Oso, spieghi su un gioco in futuro che giocherai. Grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie.